Ciao milanisti, bentornati o benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Abressi Sono giorni caldi perché il Milan in campo diciamo che ha una settimana di sosta, una settimana libera, piena di allenamento senza impegni infrasettimanali così come sarà la prossima, per un po' avremo questo tipo di settimana visto che non siamo impegnati in Supercoppa, visto che non siamo impegnati in Coppa Italia anche se poi in realtà effettivamente la Coppa Italia si giocherà più avanti il prossimo impegno diciamo infrasettimanale sarà l'Europa League ma intanto è tempo di mercato perché a gennaio il Milan sembra molto più attivo di quanto ci si aspettava perché ovviamente è arrivato Terracciano, ovviamente è rientrato Gabbia si pensava che il Milan potesse prendere un difensore centrale, ce lo siamo detti tante volte che serviva un difensore centrale, a mio modesto parere serve più un centrocampista che è un difensore centrale, dell'attaccante diciamo che si è un po' messo da parte questa possibilità visto che comunque Girojovic lo stanno facendo tutto sommato discretamente e non è in questo caso comunque la priorità, diciamo che le priorità sono centrocampista e difensore secondo me più il centrocampista che il difensore, quanto pare la proprietà, la dirigenza sta lavorando più sul difensore ma è un acquisto, sarebbe un acquisto, come avete visto dal titolo sto parlando di buongiorno, in ottica più che altro futura, non tanto per la necessità di questa stagione quanto per una programmazione futura, è un Milan che va a lavorare in vista della prossima stagione e chissà anche magari di un cambio di modulo ma di questo parliamo insieme tra un po' prima di tutto lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti attivate la campanella e commentate per dirmi la vostra dicevamo, allora andiamo con ordine, partiamo dalla situazione di buongiorno perché buongiorno è il giocatore che il Milan ha individuato per andare a rinforzare la propria difesa piace tanto alla dirigenza, piace tanto al Milan che quindi vuole prenderlo ora bisogna capire se il Milan avrà la forza economica di andare a prenderlo già a gennaio o se rimanderà tutto a giugno, ciò non vuol dire che se non arriva a gennaio al 100% arriverà a giugno ma sicuramente comunque qualora il Milan non dovesse riuscire ad arrivarci a gennaio farebbe sicuramente un nuovo tentativo a giugno partendo già da posizione di vantaggio perché da posizione di vantaggio? Perché buongiorno e il Milan non sono mai stati vicini come in questo momento il Milan aveva già presentato una prima offerta al Torino, un'indicazione sulla prima offerta al Torino che però era stata rifiutata e adesso prima diciamo di andare a rilanciare questa offerta a Urbano Cairo il Milan si è voluto accertare che buongiorno desse il proprio ok nel caso in cui ovviamente si dovesse effettivamente poi arrivare a un accordo tra le parti benissimo, buongiorno, ieri sera è andato a cena con Riso, questo probabilmente già lo sapete e ha aperto al Milan, ora il Milan sta lavorando con il Torino per raggiungere un accordo per buongiorno la sensazione che si ha è che questo affare si possa concludere, possa andare a buon punto il Milan lo vuole fortemente, certo è che bisognerà fare un passo in avanti il Milan e un passo indietro il Torino perché altrimenti non si arriverà da nessuna parte il Milan non ha intenzione di strapagare buongiorno è consapevole del valore del giocatore, è consapevole che ha tante richieste sa benissimo che è un giocatore che ha un valore economico importante però non vuole neanche arrivare a pagarlo cifre spropositate il Torino dal canto suo ovviamente vuole monetizzare il più possibile al di là delle dichiarazioni di Cairo che dice vuole tenerlo sì ma fino a un certo punto perché comunque è memore dell'esperienza di Belotti quando poteva cederlo, la cifra importante non l'ha ceduto e si è ritrovato a perderlo a zero buongiorno sa che andrà via se non ora in estate vuole monetizzare il più possibile la fine tra adesso e l'estate cambierà veramente molto poco il ragazzo fino a questo momento aveva fatto muro perché aveva rifiutato l'Atalanta in estate adesso sembra convinto dalla possibilità di andare al Milan e quindi il Torino quasi è d'accordo a lasciarlo andare però vuole ricevere il giusto prezzo quale dovrebbe essere quindi questa via di mezzo tra la richiesta del Milan e quella del Torino la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 30-35 milioni comprese però le contropartite il Milan ha infatti inserito nell'affare Colombo che è un altro tassello da sistemare perché un tassello da sistemare? perché la difficoltà di questa trattativa è proprio questa il fatto che ci sono tante parti in causa c'è il Milan, c'è il Torino, c'è Buongiorno, c'è Colombo, c'è il Monza e indirettamente c'è anche la Juventus con Can perché? perché Colombo ha due possibilità qualora il Milan lo inserisse nell'affare Torino ci sono due possibilità per l'inserimento di Colombo nell'affare la prima è che si liberi dal prestito al Monza immediatamente e vada subito a giocare per il Torino a titolo definitivo la seconda è che concluda la stagione al Monza e vada l'anno prossimo a titolo definitivo al Torino qualora il Monza dovesse lasciarlo andare immediatamente potrebbe andare su Can della Juventus che si muoverà probabilmente in prestito su cui tra l'altro però anche il Milan sta facendo dei ragionamenti quindi per questo è una situazione un po' intricata bisogna mettere tutti i tasselli al proprio posto se questi tasselli verranno inseriti ognuno al proprio posto si arriverà al puzzle completo ovviamente c'è anche un po' da valutare la valutazione di Colombo perché il Milan ha una valutazione intorno ai 10-15 milioni il Torino probabilmente non arriva ai 10 e quindi bisogna trovarsi anche da questo punto di vista qui l'offerta del Milan potrebbe essere da 15 milioni più Colombo forse qualcosina in più magari una percentuale sulla futura rivendita si ragiona anche sull'ipotesi prestito con diritto obbligo di riscatto come vedete sono tante cose tante situazioni cioè è difficile anche in questo momento mettere in ordine in questa situazione perché ci sono più possibilità sulla formula perché ci sono più possibilità sulla valutazione perché potrebbe inserire il Milan Colombo o anche Simic potrebbe offrire un prestito con diritto obbligo di riscatto potrebbe prendere lo titolo definitivo con dei bonus o una rivendita insomma tante cose a sistemare fatto sta che certamente c'è la volontà sia da parte del Milan che da parte di Buongiorno che da parte del Torino di cercare di arrivare a un accordo di massima che possa soddisfare tutti quanti se si dovesse effettivamente arrivare a questo accordo Buongiorno diventerà un giocatore del Milan è un'operazione complessa ma siamo più vicini rispetto a quanto lo si era ieri non vuol dire che è fatta non vuol dire che arriverà sicuramente ma che le parti si sono avvicinate vedremo poi come andrà a finire cambiando discorso ma non troppo parliamo della panchina il titolo è da Pioli a Conte il punto perché? perché innanzitutto Buongiorno sarebbe come dicevo un acquisto anche in ottica futura il Milan sta lavorando in modo tale da avere le spalle coperte qualsiasi soluzione scelga di attuare in panchina se il Milan giocherà a 3 se il Milan giocherà a 4 in ogni caso Buongiorno può farlo Terracciano può farlo ha diversi giocatori del Milan che possono farlo quindi il Milan ha le spalle tra virgolette coperte e anche per questo Buongiorno è un acquisto in ottica futura quando il prossimo anno il Milan saluterà Kier e si ritroverà con Tomori Ciao, Kalulu e Buongiorno attenzione ipotesi anche di un'altra cessione perché se Milan dovesse salutare per esempio Kalulu anche se in una difesa a 3 sarebbe l'ideale allora potrebbe arrivare poi un altro difensore con Buongiorno che Ciao e Tomori così si dovesse salutare Tomori insomma Buongiorno ti copre le spalle da tutti i punti di vista sia tattici che di eventuali cessioni future che potrebbero esserci nel pacchetto difensivo quindi per questo Buongiorno sarebbe un acquisto molto importante sia se fatto ora sia se fatto in estate anche perché è oggettivamente uno dei difensori più forti del nostro campionato in nazionale ha dimostrato di avere grande talento sta facendo una stagione eccellente quindi sarebbe veramente un acquisto di altissimo livello Buongiorno ma tornando al discorso panchina quindi 3 difesa 3 difesa 4 per questo ne parlo perché ultimamente sembra che Conte sia a un passo dal Milan ragazzi a me dispiace spegnere l'entusiasmo di molti perché so che la maggioranza di tifosi milanisti poi non tutti ma la maggior parte in questo momento vorrebbe Conte sulla panchina del Milan io in questo momento sono più in un limbo tra alcune cose mi fanno tendere al sì altre cose mi fanno tendere al no ma la maggior parte lo vorrebbe al Milan perché è convinta che Conte al Milan sarebbe la soluzione di tutti i problemi a me dispiace spegnere l'entusiasmo non lo faccio perché perché non voglio vedervi sognare ma perché vi devo riportare ciò che mi risulta e secondo quanto risultano di pianetamilan.it Conte non è un'ipotesi percorribile in questo momento per il Milan perché non per questione di costi non per questione di costi non perché ha uno stipendio troppo alto non per una situazione diciamo né tattica né di mercato o altro per una semplice questione comportamentale di atteggiamento Conte non è un profilo che la proprietà cardinale ma anche Giorgio Furlani apprezzano per il suo trascorso il suo passato Conte è quell'allenatore che lascia la Juventus ne abbiamo già parlato in un video ve l'avevo già detto non è un problema economico Conte lascia la Juventus in ritiro a pochi giorni dall'inizio del campionato Conte va in conferenza stampa a dire che il mercato è fallimentare Conte dice che non si mangia in un ristorante da 100 euro con 10 euro sono tutte cose che a Milan non accettano sono cose per cui Maldini per molto meno Maldini è stato mandato via e aveva sposato in parte questa filosofia del Milan Conte difficilmente la sposerebbe Conte vuole degli acquisti quindi non è una questione tanto economica quanto di compatibilità comportamentale con Antonio Conte quindi vi ripeto in questo momento Conte non è un'ipotesi percorribile per il Milan per questo motivo qui poi se si deciderà di soprassedere su questo aspetto e si deciderà che Conte a prescindere da tutto è la soluzione migliore è un altro discorso ma a oggi Conte non è un'ipotesi percorribile per il Milan qual è la prima opzione? in questo momento la prima opzione è Tiago Motta poi vedremo come andrà a finire se il Milan cambierà idea se non cambierà idea insomma ma in questo momento la situazione è questa poi c'è Pioli c'è l'ipotesi Pioli un altro anno? secondo me no cioè se qualcuno sta dicendo Pioli potrebbe restare Furlani comunque si trova bene è vero però la sensazione che il ciclo Pioli sia finito un po' si ha e l'hanno anche in dirigenza e quindi Pioli probabilmente andrà via ciò che ci tengo a dirvi e a farvi presente è che il Milan ha 42 punti che sta andando comunque abbastanza bene che in campionato viene da una striscia positiva quindi alla fine questa stagione sta avendo etichettata più fallimentare di quella che è però l'addio a fine stagione con Pioli comunque è quasi certo secondo me e secondo quanto mi risulta in Pol per sostituirlo c'è Tiago Motta Conte a oggi non è un'opzione è tutto lasciate un mi piace a questo video iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti attivate la campanella e commentate per dirmi la vostra seguitici su pianetamina.it e su tutti i nostri profili un saluto da parte di Stefano Bressi e appuntamento al prossimo video grazie a tutti